buongiorno e benvenuti al mio podcast io sono leonardo durante global surprise 2021 top 50 andiamo alla curiosità di oggi oggi parleremo delle preoccupazioni che gli astronomi nutrono sul pericolo che la luce prodotta dalla crescente quantità di satelliti in orbita intorno alla terra rappresenta per la natura gli astronomi hanno recentemente avvertito che la luce emessa dai satelliti sta creando una minaccia globale senza precedenti per la natura il numero di satelliti in orbita intorno alla terra è più che raddoppiato dal 2019 quando l'azienda americana spacex ha lanciato la prima megacostellazione che comprende migliaia di satelliti un'armata di nuove costellazioni è prevista per essere lanciata presto aggiungendo migliaia di satelliti all'area già congestionata a meno di 2000 km sopra la terra ogni nuovo satellite aumenta il rischio che si schianti contro un altro oggetto in orbita intorno alla terra creando ancora più detriti ciò può creare una reazione a catena in cui le collisioni a cascata creano frammenti sempre più piccoli di detriti aggiungendosi ulteriormente alla nuova di spaziatura spaziale che riflette la luce sulla terra in una serie di articoli pubblicati sulla rivista nature astronomy gli astronomi hanno messi in guardia contro questo crescente inquinamento luminoso che minaccia il futuro della loro professione in uno dei documenti i ricercatori hanno dichiarato di aver misurato per la prima volta quanto una notte più luminosa influenzerà finanziariamente e scientificamente il lavoro di un importante osservatorio in costruzione ovvero il vera rubino osservatori un gigantesco telescopio in costruzione in cile secondo i modelli la parte più oscura del cielo notturno diventerà il 7,5 per cento più luminosa nel corso della prossima decade ciò ridurrà il numero di stelle che l'osservatore potrà osservare ma aggiungerà un anno alla durata dell'osservazione con un costo di circa 21,8 milioni di dollari c'è un altro costo di un cielo più luminoso impossibile da calcolare ovvero gli eventi celesti che l'umanità non potrà mai osservare e l'inquinamento luminoso potrebbe ancora essere peggiore di quanto si pensi. Un altro studio pubblicato su Nature ha utilizzato un ampio modello per suggerire che le attuali misurazioni dell'inquinamento luminoso sottovalutano significativamente il fenomeno. Gli astronomi hanno avvertito che l'illuminazione del cielo notturno non riguarderà solo gli astronomi professionisti e gli osservatori principali ma minaccerà anche il nostro antico rapporto con il cielo notturno. Per ridurre l'inquinamento luminoso causato da satelliti sono state proposte diverse soluzioni. Una di queste soluzioni è la riduzione del numero di satelliti in orbita, tuttavia questa soluzione è difficile da attuare in quanto i satelliti svolgono un ruolo importante in molti aspetti della società moderna come le telecomunicazioni, la navigazione e la sorveglianza della Terra. Un'altra soluzione è l'adozione di tecnologie a bassi impatto ambientale per la progettazione dei satelliti stessi, ad esempio si potrebbero utilizzare materiali che riflettono meno la luce solare e che riducono l'emissione di luce visibile. È importante che le soluzioni vengano studiate e implementate per ridurre questo impatto negativo e garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta.